Musica Bella a tutti ragazzi sono Zodiac Ben ritrovati sul nostro canale Oggi sono qui col mio fido aiutante JTF Under Bella a tutti ragazzi E vi porto un gameplay davvero molto molto bello Una chem strike abbastanza veloce Fatta sulla mappa Octane Con 86 kill no lethal Cosa sono le kill no lethal? Perché ci sono tanti bambini che sotto i video Si divertono a inventare il significato delle cose Come gunstreet e tutte queste cose Quindi onde evitare cazzate nei commenti E siccome io non ho tempo dopo riprenderemo il discorso Per rispondervi a tutti lo specifico subito durante il video Le kill no lethal sono le kill fatte solo e esclusivamente con l'arma In questa partita sono 86 Ovvero 86 kill fatte con il bonus specialista Quindi usando tutti i bonus e tutte quelle cose là E diciamo che è una delle partite con più kill no lethal in Italia Su dominio E su questa mappa credo che ce ne sono davvero davvero poche Di partite con così tante kill no lethal in dominio Specifichiamo in dominio E niente oggi volevo parlarvi e dirvi diverse cose Allora soprattutto che non sto più giocando Non sto più giocando ma non perché mi è passata la voglia Mi sono già stufato di questo gioco Non mi piace il gioco Ma perché non c'è proprio tempo ragazzi Io passo le serate tra video Cioè organizzarmi con Ander Con chi che sia del clan per fare commentary Contattare il grafico per le miniature dei video Da indirizzare, montare il video e tutto E tra le cose di scuola Perché ogni sera ho sempre compiti da fare O cose del genere Siccome io non li faccio quasi mai il weekend E me li trovo poi anche in settimana Eh sì dovrò prima o poi cercare di organizzarmi meglio Anche con la scuola Niente oggi siamo qui a parlare di Un argomento davvero molto molto Che mi fa davvero nervosire Ovvero le ricompense peggiori su questo gioco Allora partiamo subito Da una cosa molto strana Allora ragazzi Questo video Cioè su questo gioco ci sono le peggio accessori Le peggio cose futuristiche Come accessori dell'arma E tutte queste cose Ricompense E poi cosa mettono Quello schifo d'artigianale Che ti uccide Non so Cioè è una schifezza Non proprio Non di accessorio Non so come si chiama Il posto delle granate Quelle stronzate lì Di letale Ecco non mi veniva Il coso Grazie a Ander Scusate ma sono davvero stanco Che vi stiamo portando un video al giorno Ragazzi E io la trovo davvero Una stronzata Cosa gli costava mettere la bomb vecchia Claymore Per i camper Che riuscivi anche a saltarla via No? Sto schifo Muori quasi al 100% Passiamo a un'altra ricompensa Che odio dal profondo del cuore Che tutti quelli che giocano con me Lo sanno Perché appena La tirano Io dico Occhio ai tossici Occhio ai tossici perché? Perché Hanno fatto i cani E c'è la gente che va in giro Io la paragono ai tossici col cani Quelli schifosi che vanno in giro con il cane Non so se capite il discorso Quando io in partita dico tossici Vuol dire che c'è qualcuno che ha tirato Quel cagnolino di merda Che fa anche i bisogni in giro per la mappa Nessuno pulisce Che ti uccide Ti uccide nei peggio modi Con le peggio lagate I peggi salti Fanno sti cani Io non lo so Sembrano i cavalli dell'ippica Invece no Sono cani E riescono a ucciderti Nei modi più assurdi Cioè non riesci quasi mai A difenderti E' una ricompensa molto forte Intanto qua prende la crime strike Però una ricompensa di merda Che mi fa davvero innervosire E quindi io questi li chiamo i tossici Con i cani Adesso ragazzi Vedrete le ultime kill Il video davvero sta già finendo E io ringrazio Under Che purtroppo Non l'ho fatto parlare In questo commentary Ma avrà modo In altre partite Perché ne abbiamo davvero tante Di chem strike Per parlare appunto Lasciateci scritto nei commenti Cosa volete Come prossimo video Se magari preferite altri live Con la webcam Cose del genere Ci daremo da fare Niente Il video sta finendo Come ho detto Vi invito a passare Dalla pagina facebook Intanto qua io mi sto soffocando Con la saliva Scusate E vi invito appunto A passare dalla pagina facebook A lasciare un mi piace Mi raccomando ragazzi Che è fondamentale adesso Per la nuova feed di youtube Che è uno schifo A lasciare un commentino Su cosa vorreste E come hai trovato il video E bella a tutti ragazzi Da Under e da Zodiac Non ti piacciono i gtf Ti ammazzati Ti gasparati Quando arrivo Devi farmi passare Non ti piacciono i gtf